Stiamo per mettere a disposizione di tutti il libro non aprite quella 503 già aggiornato alla nuova norma 164.8 Se vuoi rimanere informato e sapere quando sarà disponibile clicca qui sotto che c'è un link nel quale puoi lasciare i tuoi dati per essere contattato e sapere quando sarà pubblicato Ciao!